Del Piero, il nuovo vicepresidente della Juventus. Sono queste le intiscrezioni che stanno correndo e scorrendo dalle parti della continassa. E' questo quello che vuole il nuovo presidente Ferrero. Ma prima di approfondire questo bellissimo discorso, un bellissimo buongiorno a voi amici juventini, vi invito come sempre, per chi non l'ha fatto, iscrizione al canale, è gratuito, mi sostenete, like, commentate e poi attivate la campanella così non vi perderete mai un video e siamo sempre live. Poi mi raccomando, bellissimi appi da scaricare perché è l'Alpi numero uno del calcio e si scarica gratuitamente il numero 10, calciomercato. La vostra squadra del cuore che volete la seguite, vi avremo tutte le notizie, calcio in generale, calcio femminile, mondiale, tutte le notizie, i video che volete, è lì, scaricatela, link in descrizione in questo video. Le sedentie di madame e messia, signore e signori, ma i signori quelli veri, quelli copi bianconieri della vecchia signora, rieccoci qui, un giorno sì, un giorno, il giorno è arrivato, Alessandro Del Piero può già entrare nel nuovo CDA della Juventus, addirittura il presidente Ferrero ha detto che vuole già Del Piero come vicepresidente, è questo qua, è il tassello più bello, è il tassello più speciale che la Juve può infilare. Brutta cosa da dire, signori miei, ma è così, la più bella infilata che la Juve può fare è mettere Del Piero vicepresidente. Lo so, qualcuno sperava addirittura che Del Piero può diventare presidente, ci sarà il tempo, deve anche crescere Del Piero. Un gondo è giocare a calcio, un gondo è darci emozione dal giocatore bene. Nella Juve, dopo quello che è successo, bisogna avere anche esperienza, sedersi poi nella fortuna più grande. Partiamo di qua, diamo tanta fiducia a John Elkane che sta formando una nuova dirigenza fatta, fatta, come ha detto il nostro padron, di esperti, esperti che capiscono la materia innanzitutto economica. Perché oggi il calcio, purtroppo, signori miei, è anche questo, economia, bisogna saper lavorare con i soldi, saperli spendere, saperli poi guadagnare. Perciò, quello che John Elkane sta mettendo in atto è una bellissima cosa. John Elkane è stato chiaro, la Juve non lo abbandonerà. E quando arrivano, in discrezione del genere, corrono voci nei corridoi della continassa che Alessandro Del Piero lo vogliono già nel CDA come vicepresidente, io prendo veramente una bella boccata d'aria, sono felicissimo. Tante parole poi e voci correvano, addirittura, addirittura da giugno, da giugno, non da subito, si prospetta un presidente che un altro ritorno, un altro numero dieci. Michel Platini. Rumors, indiscrezioni, attenzione, su Del Piero diciamo che la situazione è molto più veritiera, però su Michel Platini attenzione perché può succedere, lo sappiamo tutti, Platini ha tanta esperienza nel mondo del calcio, non solo che è stato un grande campione, è stato anche un grande a rappresentare anche nell'UEF, è stato uno che era stato condannato ingiustamente, poi si è difesa e ha dimostrato che lui rimane sempre un grande, un numero dieci che può diventare un numero uno da giugno, il nuovo presidente della Juventus, ma quello sarà il futuro, ci sarà modo per parlarne. Oggi parliamo di Alessandro Del Piero, Alessandro Del Piero. In un'intervista gli hanno fatto una domanda dove ha dato una risposta che rappresenta tutta la sua Juventilità. La domanda che gli fanno, se la Juve ti chiama, tu cosa fareste? Cosa ha detto lui? La Juve per me sono vent'anni di storia, ho vinto, sono andato in serie B, per me la Juve è la società e chi governa. Abbiamo un ottimo rapporto, Del Piero è la Juve, Del Piero è la Juve, la Juve è Del Piero. Ma attenzione, non voglio che pensiamo che Del Piero solo lui sia la Juve, la Juve è stata rappresentata in varie ere, però come dire, nell'ultima era Del Piero rappresenta, rappresenta la storia di Del Piero. Altri giocatori faranno storia ma ci vorrà tempo. Ad oggi quello che ci ha portato sul tetto del mondo, l'ultimo sul tetto del mondo, sul tetto d'Europa è stato, signori miei, l'esidenciere di madame Messier, signori, signori, Alessandro Del Piero, non lo dimentichiamo. E lui sedersi in questa poltrona da vicepresidente, diciamo che come un presidente effettivo, perché Ferrero è quello che rappresenta, rappresenta come figura per gestire i conti, ma Del Piero a livello calcistico è uno che ne capisce tanto, può fare tante esperienze, sta andando già, come dire, l'elastico tra la squadra e la società, l'uomo giusto, l'uomo esatto, l'uomo al momento giusto, che è la Juve, serve non tanto per rilanciarsi, perché la Juve attualmente in campionato già non sta andando male a livello calcistico, non stiamo andando male. Fermi, la situazione, come dire, attualmente generica, parliamo di queste indagini, la Juve sa, l'ho detto nel video di ieri sera, la Juve si difenderà. Ora la Juve penserà non solo a sistema della società a livello, come dire, giuridico, ma pensa anche al campo, pensa anche al rettangolo verde, e per pensare al rettangolo verde il nome verde che dà speranza è proprio Alessandro Del Piero. Un Alessandro Del Piero che a tutti dà fiducia, è l'uomo che nessuno dice di no, è l'uomo che collega tutti, tifosi, squadra, giocatori e società. Lo sappiamo tutti, perché Del Piero non è mai arrivato a sedersi in una delle poltre della Juve in questi anni. Non vogliamo oggi approfondirne, quella società a dirigenza che c'era prima ha mollato, ha lasciato. Chi ha detto grazie? Chi ha detto prego? Bene, è il momento di voltare pagina, la pagina si volta e il nome sulla prima pagina che leggo si chiama Alessandro Del Piero. è uno che si scende negli spogliatoi e c'è qualcuno che fa il birichino, c'è qualcuno che vuole fare il saputello bene, lui è l'uomo giusto, per tirargli le orecchie e dire, senti bello, ma tu sai chi sono io? Io sono Alessandro Del Piero. Sai io alla Juve cosa ho fatto? Ho fatto di tutto per vincere e di tutto per farla restare in piedi. E' lì che tanti giocatori devono avere timore. Timore è vederlo come dire, come è di insegnamento uno come Del Piero, il prototipo che ha fatto la storia. E' una bella cosa, sono felice, speriamo che accada veramente, speriamo che le voci che stanno correndo, c'è tanta verità, tanta verità che mi renderà felice a me, felice sicuramente a voi tifosi, a voi tifosi come tifosi ovviamente sono io, perché chi è nato, diciamo, negli ultimi 10-15 anni ha visto ormai un Del Piero arrivato nel suo file carriera, ma chi è nato negli anni 80, chi è nato negli anni 90 e ha visto Alessandro Del Piero, sa chi è Alessandro Del Piero, non voglio aggiungere altro. Questo buongiorno ve l'ho voluto dare così, dicendovi questa bella notizia che può avverarsi un giorno all'altro. Signori miei, chiudiamo questo video qui. Se ci sono altre novità, nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio, un altro video arriverà. Vediamo che risvolti ci saranno in tutte queste situazioni dove la Juve oggi deve pensare al campo, allo stesso tempo deve difendersi. Lo ricordo ancora una volta, la Juve non è mai sola. Agnelli si è dimesso, ma dietro la Juve c'è sempre la famiglia Agnelli, la famiglia Elkan, che non ci abbandoneranno mai. Signori miei, ripeto velocemente, per chi non l'ha fatto, iscrivetevi al canale, like, commentate, attivate la campanellina, io mi ne voglio. Ossa benedica a tutti, fino alla fine, forza Juventus. Alessandro Del Piero. Ehi, ja. Simili a degli eroi Abbiamo il cuore a strisce Abbiamo il cuore a strisce